Qual era una delle caratteristiche dei filmetti zozzi, quelli di serie B italiani degli anni settante, anche primissimi anni ottanta? Il personaggio comico di turno prendeva e diceva una castroneria, ok? Tipo che Garibaldi era l'eroe dei quattro mondi, Cristoforo Colombo aveva scoperto Capri, Dante Alighieri aveva scritto La Divina Pompea, non La Divina Commedia, questa era la castroneria. Battute che spesso e volentieri scendevano nel greve, ma questo era. Orbene, signori, l'Italia è diventata il nuovo nobby, ma serie Z movie del 2024. Una vergogna nel mondo. Come tutti voi sapete, una delle cose che faccio nella vita, tra le varie, è quella di essere uno scrittore. Ma vedete, proprio il fatto che nella vita sono anche impegnato in un discorso come la letteratura, mi vede estremamente, forse esageratamente sensibile per quel che riguarda la cultura. Io ritengo che un popolo senza cultura, un popolo come il nostro, che viene analfabetizzato in modo coatto, sia un popolo senza futuro. Se non conosciamo la nostra lingua, se non conosciamo la nostra identità, se non conosciamo la nostra storia, non possiamo pensare a domani, saremo sempre fermi al presente e lo inquadreremo male. Poi però, dopo l'uscita di ieri del ministro San Giuliano, mi sono cascati i coglioni. Mi sono incredibilmente cascati i coglioni. Se San Giuliano fosse stato ministro dell'agricoltura, ministro dell'economia, ministro allo sport, le sue uscite avrebbero lasciato il tempo che trovano. Ma il ministro della cultura. Cultura. E c'è pure un curriculum vitae di tutto rispetto. Laureato in giurisprudenza, master, se non mi sbaglio, in diritto europeo, giornalista, vice direttore di Libero, ex direttore del Tg2, ex direttore del Tg1, cioè una voce importante dell'informazione che è anche voce importante, non solo della cronaca, ma è stata anche voce importante della cultura. Una persona che con questo corrimo deve avere una capoccia grossa così e per di più è nato a Napoli. Dovrebbe essere un tantino sveglio. Sì, è sveglio, ma solo per i cazzi suoi. Io capisco. La Meloni si sente la Shirley Temple della Garbatella. Oramai si sente intoccabile, inarrivabile. La nuova papessa di questo paese. E c'è sta. C'è sta. C'è sta. C'è sta. E capisco anche che di conseguenza abbia voluto piazzare il cognato al ministro dell'agricoltura, più per la fedeltà che per le capacità. E c'è sta, perché Lollobrigida mi ha regalato tante risate, mi ha fatto felice. Io ogni volta che Lollobrigida si ciccia, Lollobrigida fanno uscita e io sono felice. Poi è un uomo con dei superpoteri, sussurra alle cacciotte, ferma i treni, parla di complotti dell'Olanda contro l'Europa. È straordinario. Almeno mi fa ridere. Ma San Giuliano no. No. Perché sei il ministro della cultura. Non per altro. Perché la faccia da comico ce l'hai anche, San Giuliano. Ma hai sbagliato il ruolo. Caro San Giuliano, non dovresti essere ministro, dovresti stare a fare stand-up comedy. Castronerie varie a parte, voglio passare pure sopra il discorso che ci ha fatto scoprire che Times Square è a Londra. Ci voglio passare sopra. Ma la cultura del nostro paese emanò chi è. E emanò uno che dice la più bella delle supercazzole, facendoci fare una figura di merda a livello internazionale, come se questo governo ce ne avesse già fatte fare poche. Cosa dice San Giuliano? Dice che praticamente Cristoforo Colombo avrebbe circunnavigato il pianeta, non ha circunnavigato il pianeta, però diamogliela per buona, ispirato dalle teorie di Galileo, Galilei, che è nato settant'anni dopo. Questo è il vostro Ministro della Cultura, che purtroppo è anche il mio Ministro della Cultura, l'ennesimo regalo di questa classe dirigente che è figlia di cosa? Della cultura berlusconiana? No, è figlia di qualcosa di peggio, della cultura televisiva e della gestione del potere pubblico di natura berlusconiana, dove quello che conta, come dicono in Sicilia, comandare è meglio che a fottere.